Erano proprio così, come si vede da questa foto d'inizio anni 50, le loggie dei tiratoi di Gubbio, quasi interamente chiuse nel lato nord, a monte con muri o fondelli che tecnicamente venivano definiti tamponature. Un'immagine che ispira più di una riflessione dopo settimane di dibattito sul progetto della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia di rifunzionalizzare l'intero immobile di sua proprietà con una chiusura a vetro del loggiato, seppur a distanza dal filo delle colonne. Dibattito nel quale si inserisce il contributo tecnico e di memoria di chi ha visto realizzare importanti e significative ristrutturazioni sull'intero loggiato negli anni 70. Furono fatti degli interventi su commissione dell'associazione Gubbio Nostra, che era un'associazione che riuniva dei cittadini di Gubbio che si autotassavano e finanziavano i lavori. Il primo intervento è stato fatto nel 1972 e riguardava una stamponatura delle loggie, che guarda caso erano state tamponate, nella parte nord, esclusivamente per impedire agli agenti atmosferici, pioggia, neve, di entrare all'interno, perché una volta dentro l'acqua penetrava nei piani sottostanti. Allora furono liberate di queste tamponature che raggiungevano, io mi ricordo dalle fotografie, circa tre quarti dell'attuale altezza delle colonne. Furono stamponate e furono fatti all'interno del loggiato dei massetti di pendenza per impedire all'acqua che sarebbe eventualmente entrata di uscire. Un secondo intervento è stato fatto nel 1976 e si intervenne al piano della piazza per stamponare delle aperture trecentesche, degli archi sempre per incarico di Gubbio Nostra. Io mi ricordo che mio padre mi raccontava che il tetto delle loggie, se fu rifatto negli anni 50, credo, primi anni 60, e mentre un'impresa procedeva allo smontaggio di questo tetto, un po' malomodo diciamo, oppure non secondo i canoni previsti, insomma questo tetto venne giù e si trascino dietro anche molte delle colonne del secondo piano, che furono ricostruite e quindi sono praticamente nuove. Io credo che quello che rimanga di veramente originale sono le colonne che si trovano a livello della piazza, le colonne rotonde, che tra l'altro quando abbiamo fatto come impresa qualche anno fa l'intervento di consolidamento del tetto delle loggie per il conto del comune, e abbiamo fatto anche dei saggi e quelle colonne continuano ancora per un metro e venti sotto l'attuale piano e hanno un bellissimo capitello che è uguale a quello che c'è sulla sommità, che si può vedere attualmente, che sarebbe veramente bello cercare di valorizzare e di scoprire, anche perché secondo me ridà quella proporzione giusta al fabbricato. C'è la parete sud, sia della chiesa che delle loggie, c'è molto nella parete nord verso San Giovanni, il resto all'interno e sopra, come ho detto anche poc'anzi, è rifatto. Mi sono favorevole per quello che mi riguarda a questa realizzazione di questa sala, perché permette o anche uno sfruttamento sicuramente da parte della città di questo spazio che attualmente è inutilizzato, è utilizzato esclusivamente dai piccioni. Un deturpa e soprattutto è un intervento rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti assolutamente reversibile. Io mi domando perché la sollevazione della città non c'è stata anche quando si sono fatti degli scempi molto, secondo me, ma molto gravi in Gubbio e nei dintorni di Gubbio. Non c'è stata, ecco come mai.